Abbiamo detto che il lodo Alfano doveva essere un modo per superare la frizione permanente tra politica e magistratura. La reiterabilità del lodo Alfano è inaccettabile. Se la maggioranza tirerà troppo la corda si spezzerà, per cui io chiedo al Ministro Alfano, alla maggioranza di assumere una posizione più ragionevole, di non proporre una sorta di lodo a vita, di prendere atto che vi sono dei rilievi e di modificare l'impostazione. In quel caso si potrà andare avanti. Il problema non è del ribaltone, è dell'autoribaltone. Io credo che Berlusconi debba governare fino alla fine della legislatura, ma se lui e Bossi decideranno di sciogliere le camere e si autoribalteranno, è chiaro che a quel punto ciascuno si dovrà assumere la propria responsabilità. Qui si sta parlando di buttare la spugna in un momento di gravissima crisi economica e finanziaria internazionale, una vera e propria fuga dalle proprie responsabilità, un atto di follia politica. Se Berlusconi e Bossi seguiranno questa strada, faranno un autoribaltone. È chiaro che a quel punto le altre forze presenti in Parlamento dovranno assumersi la responsabilità di governare questo Paese. La Fiat ha fatto man bassa dei contributi dello Stato. Detto questo, Marchionne non ha una ma cento ragioni, perché l'alternativa per i lavoratori italiani è che tiri giù la saracinesca delle aziende targate Fiat in Italia e vada in Serbia e delocalizzi. Per cui bisogna guardare in faccia la realtà, non illudersi che la realtà sia diversa. Io credo che quando denuncia la perdita di competitività dell'Italia, Marchionne dica purtroppo una cosa sacrosanta. Purtroppo, perché mi piacerebbe dargli torto, ma non riesco a dargli torto visto la perdita di competitività del nostro Paese e la grande angoscia in cui versano i giovani migliori del nostro Paese che spesso sono costretti ad andare all'est. Abbiamo fatto un buon lavoro in questi primi mesi. Penso che anche se ci diamo un tempo del prossimo mese potremo ampiamente superare anche la rappresentanza precedente. Per cui tutto va per il meglio. Noi lavoriamo, però qui i problemi veri sono quelli della Sicilia, sono le questioni programmatiche, politiche a cui corrispondere. Questa è la questione vera, non è il gruppo all'Ars dell'Udc o di un altro partito. Bisognerebbe cercare un po' di guardare le cose per la loro essenza. I siciliani vogliono bene al mio partito. Devo dire però che il problema non è la contabilità sui nostri consiglieri regionali, che come dico è ampiamente positivo e lo sarà sempre di più. Il problema è corrispondere al bisogno di governo che c'è. Ogni governo, ogni realtà ha la sua specificità, per cui non si tratta di fare prove generali di nulla. Noi diamo un giudizio positivo di questi passi della Giunta, anche della composizione delle persone che ci sono. Lavoriamo per aiutare, credendo però che la stagione delle polemiche anche in Sicilia è finita, per cui anche quei partiti che stanno all'opposizione e che non hanno condiviso la Giunta di Lombardo, io penso che farebbero bene a dare una mano ad aiutare la Sicilia ad andare avanti e anche il governo Lombardo, perché Lombardo è stato scelto dagli elettori, non da me. Sì, evidentemente c'è chi ha ritenuto di doversene andare via davanti ad un Presidente che come Berlusconi è stato eletto dai siciliani. Berlusconi è stato eletto dagli italiani, lui dai siciliani. Grazie a tutti.